Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale La morte di Patrick tanti gli amici che si recono sul luogo dell'incidente per rendere omaggio all'amico scomparso Minaccia di lanciarsi nel vuoto attimi di paura pesero per un uomo che voleva farla finita gettandosi dal secondo piano Patente sospesa per 5 anni Massimo Ranelli il camionista 47enne di Senigallia che ha investito e ucciso Sonia e Delisa all'uscita di una discoteca Calci e pugni in faccia la compagna arrestato dai carabinieri di Fano uno straniero di 50 anni La morte di Don Gabriele Belacchi tantissima gente ha voluto rendergli omaggio oggi nel giorno del suo funerario Il mare d'inverno a Torrette di Fano questa mattina si presentava così come una discarica a cielo aperto Dopo il telegiornale torna Primo Cittadino nella prima puntata del 2020 ospite Massimo Seri il sindaco di Fano Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Buonasera, benvenuti a questa edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17 La morte del 24enne Patrick Mencoboni Ancora tanti amici increduli oggi si sono recati nel luogo in cui la notte scorsa si è schiantato con la sua auto e ha perso la vita Una persona ben voluta e amata da tanti Vediamo il servizio di Rino Balestra Il muro della casa lungo la Flaminia nella frazione di Cucurano porta ancora i segni e le tracce di vernice rossa lasciati dall'auto di Patrick Mencoboni 24 anni padre di una bimba di soli 5 anni che alle 2.30 di domenica mattina si è schiantata contro lo spigolo della casa in una carambola fuori controllo che non gli ha lasciato scampo Nella sua corsa l'auto prima ha divelto tre pali in ferro che sostengono una recensione metallica che gli hanno fatto da perno e poi ha impattato violentemente la fiancata a sinistra contro il muro della casa un urto che non ha lasciato scampo a Patrick che è morto sul colpo mentre il suo passeggero un amico 19enne è uscito dall'auto con le proprie forze e si è seduto a terra accanto all'auto dopo aver cercato inutilmente di aiutare l'amico e chiamato aiuto ma non ce ne sarebbe stato bisogno perché il fragore dello schianto nel cuore della notte ha svegliato gli abitanti della casa di fronte che hanno subito attivato i soccorsi arrivati rapidamente e che dopo aver constatato il decesso di Patrick hanno prestato le prime cure al suo amico portandolo al pronto soccorso di Fano e da dove poi è stato trasferito al torrette di Ancona ma non dovrebbe essere in pericolo di vita oggi sul luogo dell'incidente e sul posto di lavoro di Patrick è stato un pellegrinaggio continuo di amici, conoscenti compagni di comitiva che hanno portato bigliettini, fiori anche un modellino di moto e un palloncino a forma di cuore quella tragica notte dopo una serata in un locale poco distante si dovevano ritrovare nel piazzale del sogno caffè come ritualmente facevano quasi tutte le sere che dista soli pochi metri dalla palazzina dello schianto ancora da ricostruire la dinamica di questo incidente Patrick, a detta dei suoi amici era uno prudente alla guida visto anche il lavoro che faceva nell'officina di famiglia le macchine, l'asfalto non avevano segreti per lui andava anche in moto e al volante a chi era suo passeggero dava sicurezza non era uno spericolato anche noi di Fano TV lo avevamo ripreso durante un intervento di soccorso per un camion impantanato il 7 febbraio dello scorso anno in zona Tre Ponti con la sua potente autogrubbiana le tracce lasciate sull'asfalto raccontano di una breve frenata che non è però riuscita ad attutire l'urto forse il ghiaccio formatosi nella notte potrebbe essere una possibile causa dell'uscita di strada della sua Fiat Punto Rossa ora su questo indagano gli agenti della stradale di Urbino Attimi di apprezzione nel pomeriggio di oggi in via Fattori a una traversa del corso 11 settembre nel cuore del centro storico di Pesaro per un uomo affacciatosi al balcone di un appartamento al secondo piano che minacciava di lanciarsi nel vuoto immediato l'arrivo dei vigili del fuoco 118 e i carabinieri che hanno subito instaurato un dialogo con l'aspirante suicida per evitare il peggio dopo una lunga trattativa fortunatamente tutto è rientrato e l'uomo ha desistito dal suo intento pare che alla base del suo gesto ci fosse una lite scaturita in ambito familiare calci e pugni alla compagna un uomo uno straniero di 51 anni è stato arrestato dai carabinieri di Fano ma i carabinieri di Fano nel fine settimana hanno tratto in arresto anche un altro un altro uomo un'altra persona che ha aggredito i militari ed è fuggito dopo un breve inseguimento Due arresti in due giorni sembra il titolo di un film ma altre si è la realtà dell'attività svolta dalla compagnia carabinieri di Fano in quest'ultimo fine settimana il primo arresto riguarda un italiano di 44 anni residente a Fano avvenuto nella notte tra sabato e domenica quando l'uomo alla guida della sua autovettura una Jeep Renegade ha tentato di eludere un posto di controllo predisposto nei pressi dell'uscita della superstrada Fano Grosseto in direzione Fano prima rallentando e poi accelerando repentinamente per tentare la fuga dopo un breve inseguimento l'autovettura però è stata raggiunta così come il conducente perché il 44enne dopo aver abbandonato il veicolo quasi ancora in movimento ha cercato di darsi la fuga a piedi ma inutilmente le sorprese però non sono finite qui per i militari perché sull'auto come passeggero c'era un altro italiano di 38 anni anch'esso residente a Fano che durante la breve fuga è stato sorpreso dai due carabinieri sempre vigili e attenti a disfarsi dal finestrino di un involucro contenente della cocaina i cui residui poi sono stati anche rilevati sul passamano della portiera dell'auto motivo questo del tentativo di fuga dei due nelle operazioni di bloccaggio del mezzo però un militare ha riportato anche lievi contusioni il conducente è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale questa mattina udienza di convalida e rito direttissimo nel quale il fanese ha patteggiato la pena di 10 mesi di reclusione con l'obbligo di firma denunciato a piede libero invece il suo passeggero il secondo arresto è stato operato nella notte tra venerdì e sabato per maltrattamenti in famiglia d'opera di un cittadino straniero di 51 anni che malmenava in un appartamento in via dell'industria la propria compagna con calci e pugni al volto e per le conseguenze delle quali la donna si è dovuta recare al pronto soccorso di Fano per essere medicata e curata le violenze andavano avanti da oltre tre mesi ma la donna una 44enne anch'essa straniera ma da molti anni residente a Fano non aveva mai denunciato subito dopo la violenza l'uomo è stato rintracciato dai carabinieri coordinati dal comandante papale per le vie di Fano e arrestato stamane anche per lui udienza di convalida ma il giudice visti gli atti ha disposto a suo carico la misura del carcere e così è stato portato a Villa Fastigi la prefettura di Ancona ha sospeso per cinque anni la patente di guida Massimo Renelli il 47enne autotrasportatore senigalliese agli arresti domiciliari con l'accusa di omicidio stradale aggravato dallo stato Debrezza che il 6 gennaio alla guida di una Fiat Punto ha investito e ucciso le due donne fanesi che camminavano sull'Arceviese la mattina dell'Epifania dopo una serata in un locale da ballo dall'alcol test era risultato un tasso alcolemico quattro volte superiore al consentito oggi l'ultimo saluto della sua comunità a Don Gabriele Belacchi il parroco 92enne morto qualche giorno fa e che ha guidato la parrocchia Gran Madre di Dio per 50 anni una chiesa la Gran Madre di Dio dove per 50 anni ha fatto il parroco Don Gabriele Belacchi 50 anni di sacerdocia l'insegna dell'ascolto e dell'accoglienza una chiesa che per i suoi spazi non ha potuto contenere tutti coloro che oggi pomeriggio hanno voluto essere presenti di questo ultimo passaggio terreno per il suo rito funebre una parrocchia quella della Gran Madre di Dio che è cresciuta con lui e che lui ha come ha sottolineato il Vescovo Trasarti migliorato e fatto crescere molti dei 50 anni presenti oggi sono stati in montagna con lui altra grande passione di Don Gabriele e se lo ricordano bene come ricordato anche dal diacono Maurizio che ha detto a questo proposito parlando della montagna ti brillavano sempre gli occhi oggi alle 15 in punto il Vescovo ha celebrato il rito funebre nella casa di Don Gabriele dove a soli 27 anni ha iniziato il suo percorso sacerdotale comunità quella di San Lazzaro lasciata per raggiunti limiti di età ma per continuare il suo percorso come cappellano presso il convento delle Carmelitane Scalze a Sant'Andrea in Villis presente alla funzione religiosa anche le cariche civili cittadine il sindaco Seri e il vice sindaco Fanese assieme al vice presidente dell'assemblea regionale Minardi e il comandante della polizia locale durante l'omelia prendendo spunto dalle letture del Vangelo il Vescovo ha ricordato il messaggio di Don Gabriele contenuto tra l'altro in un suo libro ho cercato di comunicare che Dio è un padre che ama i suoi figli e che bisogna amare le cose che si è chiamati a fare messaggi che i suoi fedeli conoscono bene dato lo stretto rapporto con la sua comunità rapporto mai sciolto anche dopo il suo avvicendamento e continuato con quanti lo hanno sempre visto come la propria guida spirituale un calore e un affetto testimoniate dalle tante persone presenti in chiesa già molto prima dell'inizio della funzione e dai tanti arrivati sin solo al sagrato della chiesa perché era già piena e stracolma di gente Villa Fastigi ieri mattina è stato trovato all'interno della propria abitazione un uomo senza vita non rispondendo al telefono la figlia del 57enne ha alertato i vigili del fuoco che arrivati sul luogo hanno trovato il corpo dell'uomo privo di vita ai piedi del letto il 57enne è stato identificato di origini tunisine e pare che sia morto per cause naturali e adesso la politica il Movimento 5 Stelle di Fano ha presentato una mozione per il miglioramento della viabilità cittadina con la creazione di un anello esterno corredato anche da piste ciclabili vediamo il Movimento 5 Stelle Fano ha presentato alla stampa una nuova mozione che verrà presentata in consiglio comunale riguardo la viabilità cittadina recentemente la maggioranza si è interrogata su una possibile soluzione per i flussi diretti a nord facendo riferimento al casellino di Fenile ed alcune ipotesi di nuovi collegamenti stradali per un costo stimato di 20 milioni di euro secondo stime ufficiali la città di Fano è sediata da circa 40 mila veicoli derivanti in gran parte da un traffico che pervade il centro storico e la cinta muraria secondo i grillini si possono prendere in considerazione altre soluzioni alternative per migliorare la viabilità il percorso che abbiamo studiato insieme ai nostri tecnici prevede da sud di intercettare il traffico della nazionale di deviarlo sulla strada di mezzo dove poi si ricollega alla nuova rotatoria di Tombaccia e quindi alle opere compensative per quanto riguarda invece il collegamento a nord verso Pesaro dalla nuova rotatoria di Belgatto si prevede un nuovo asse viario un nuovo asse stradale che affianchi l'autostrada per circa 5 o 6 chilometri e fino al confine diciamo con il comune di Pesaro per il Movimento 5 Stelle la concretizzazione di quest'idea progettuale consentirebbe di concedere una viabilità alternativa alla statale adriatica e autostrada liberando la nazionale da ingenti flussi di traffico ricucendo in particolare la frattura urbana attualmente esistente nelle frazioni di Fano Sud l'intervento infrastrutturale proposto nelle aree interessate prevede anche la possibilità di riqualificare i tratti stradali sovraccaricati riducendo la carreggiata per le auto e consentendo di inserire marciapiedi e corsie ciclabili dedicate i pentastellati avvalendosi del contributo tecnico di un gruppo interno di professionisti hanno stimato che il costo complessivo del progetto rientrerebbe nei parametri dei fondi già stanziati dalla regione la nostra soluzione è assolutamente affrontabile dal punto di vista economico-finanziario con i 20 milioni che la regione ha già messo a disposizione del comune di Fano per infrastrutture stradali se i lupi sono stati filmati questa mattina intorno alle 7.20 a Montecchio di Vallefoglia il video che state vedendo ha destato preoccupazione tra i residenti subito dopo poco più tardi insomma intorno alle 8.20 i lupi sono stati avvistati anche a padiglione di Tavuglia e in uno dei tanti commenti che si legge sui social network c'è scritto stanno cercando da mangiare sono in perlustrazione per poter colpire caprette e agnellini fate attenzione soprattutto gli allevatori rifiuti abbandonati in spiaggia un nostro reporter di strada ci ha segnalato l'incuria che è versa un tratto balneare a torrette di Fano noi siamo andati a vedere con le nostre telecamere le segnalazioni dei reporter di strada ci conducono in via Ammiraglio Cappellini a torrette di Fano per la presenza a poca distanza dal mare di una discarica a cielo aperto percorrendo la via interessata dalla segnalazione veniamo condotti alla vista di diversi oggetti abbandonati tra cui dei divani in pelle plastica bottiglie di vetro cavi elettrici diverse cerniere arrugginite e persino una maglia di arredo oltre ai divani a pochi metri di distanza è stata abbandonata una damigiana di vino sul suolo della sabbia ad estare ancora una volta la preoccupazione dei residenti della zona e dei tanti passanti nei pressi del luogo pubblico e la mancanza che più delle volte viene evidenziata di buon senso civico questo è sempre questo è sempre così io abito qui da 30 anni e questa è la situazione ci vorrebbe qualche telecamera qualcosa per individuare l'attardio noi quando ci rendiamo conto chiamiamo anche perché Ponte Sasso è sottofano figurati che vengono noi vediamo anche gente che viene da sotto il comune di Mondolfo a buttare l'immondizia quassù purtroppo c'è l'inciviltà della gente è sempre quella in giro è così magari buttano di notte quando non vedo nessuno non vedo mai nessuno del comune non c'è mai nessuno ogni tanto quando dopo ci si lamenta vedi che arriva qualcuno ogni tanto il sindaco si ricorda che esistiamo allora viene giù a vedere però no vedo che ogni tanto c'è qualcosa di strano appunto divani o letti reti di letto che buttano via non riesco a capire perché perché tanto vuol dire l'aset basta che telefoni prendi appuntamento ti viene a casa a prenderli però si vede che ancora non è arrivata a tutti sta cosa in testa persiste ancora questo senso di inciviltà sì sì assolutamente il comune si fa vedere ovviamente in questa zona sinceramente ultimamente si vede poco quindi vi sentite un po' abbandonati sinceramente un po' sì d'ora allo sport la pagina sportiva locale è curata da Matteo Delvecchio botti di inizio anno per lo sport fanese che in questo avvio di 2020 parte a razzo dai blocchi centrando vittorie importanti per il morale ma soprattutto per la classifica i tre punti forse più importanti sono quelli dell'Alma che alla giornata numero 20 riesce a sfatare il tabù Mancini superando per 2-1 il Padova quarta forza del campionato tra granate bianco scudati prima del match di ieri in classifica c'erano 23 punti di differenza ma nonostante questo i ragazzi di Alessandrini giocano a viso aperto e mettono in serio pericolo la retroguardia ospite già nei primi minuti rispondendo a loro volta agli attacchi veneti il Fano mette la freccia al 25esimo grazie a Barbuti bravo a sfuggire al controllo della difesa bianco-rossa a procurarsi e a segnare il rigore dell'1-0 ed è sempre grazie ad un penalty che la partita ritorna in equilibrio al 44esimo quando l'arbitro giudica falloso l'intervento di Paolini su Germano permettendo al bomber ospite Nicastro di fare 1-1 dagli 11 metri più blanda la ripresa rispetto al primo tempo con le squadre che danno l'impressione di attendere alla ricerca della fiammata decisiva a trovarla è l'alma al 39esimo con Di Sabatino che insacca di testa sullo spiovente di Baldini il Padova seppur in inferiorità numerica per l'espulsione di Kresic al 36esimo prova il tutto per tutto e la difesa panese tira un grosso sospiro di sollievo al 42esimo quando Fazzi da ottima posizione c'entra il Paolo a botta sicura consegnando di fatto la posta in palio Alfano che agguanta in classifica l'Arzignano e mette nel mirino il Ravenna con la possibilità in caso di vittoria di uscire dalla zona play-out nel campionato di Lega Pro esulta anche l'Avis Pesero che grazie ad un gol di Lazzari piega la resistenza del Cesena portandosi in acque più tranquille e inizia a sorridere anche alla Virtus la classifica nel campionato di Serie A3 di volley la formazione di coach Andrea Radici grazie al 3-0 esterno sul campo del Vivibanca Torino sale in settima posizione a soli tre punti dalla salvezza diretta dopo due sconfitte consecutive per 3-0 i biancorossi giocano una partita praticamente perfetta e in poco meno di un'ora e mezzo piegano la resistenza di un avversario reduce da due vittorie consecutive sono Bulfone e Ozzolins a suonare la carica nel primo set vinto per 25-23 mentre nel secondo parziale Capitan Salgado a prendere per mano i suoi compagni e a guidarli ad una rimonta partita dal 10-5 per i piemontesi prima della salita in cattedra del capitano alla fine la Giban vince per 25-20 e sull'onda dell'entusiasmo è tutto facile nel terzo set dove a strappare applausi sono i gioiellini della cantera biancorossa Lorenzo Paoloni e Alessio Tallone che mettono a terra punti pesanti per il 25-17 finale e sono punti pesanti anche quelli della BCC Fano Pedini che in serie B femminile supera il tiebreak la Liverani Lugo in una partita sostanzialmente equilibrata è servito appunto il quinto set per stabilire la vincitrice con la formazione dell'Apav che con determinazione e grinta conquista due punti importanti ora infatti la squadra di Coach Galli si trova fuori dalla zona calda e si prepara a giocare le ultime due partite del girone di andata con una ritrovata fiducia ed un rinforzo di esperienza in più come Sara Giulio Dori che contro Lugo ha già fatto il suo debutto è un rullo compressore invece il Fano Rugby che non ferma la sua inarrestabile marcia nel campionato di Serie C1 dove nemmeno la certezza già acquisita da tempo di disputare i playoff ha fatto rallentare la truppa del presidente Brunacci Domenica Chieti a farne le spese è stata la polisportiva Abruzzo travolta per 74-22 complice una partenza definita forse nata dal tecnico Walter Colaiacomo una partenza che ha permesso ai Rosso-Blu di arrivare alla meta bonus già nella prima mezz'ora ben 12 le mete segnate dal Fano Rugby di cui 7 trasformate dal solito Alessandro Gasparini a schiacciare l'ovale oltre alla linea bianca sono stati Mattias Canapini per tre volte e Matteo Fulvio Golini per due mentre una meta ciascuno per Sebastian Canapini Riccardo Rossi Luca Serafini Tommaso Magi Matteo Goffi Marco Sanguinetti e lo stesso Alessandro Gasparini e con la pagina sportiva chiudiamo qui questo appuntamento con informazioni ma restate con noi perché giusto il tempo della pubblicità poi le previsioni del tempo e subito dopo torneremo in onda in diretta con Primo Cittadino insieme a noi qui nello studio del telegiornale ci sarà Massimo Seri il sindaco di Fano con Simona Zonghetti grazie dunque per averci seguito noi ci vediamo domani mattina alle 7 puntuali con la rassegna stampa arrivederci grazie a tutti